Il sindaco Alessandro Betta ha designato questa mattina il tanto atteso consiglio di amministrazione della società municipale AMSA, che sarà composto dal presidente Renato Veronesi, suo vice Federico Chincarini, poi Claudio Angelini, Bruno Lunelli e Stefano Mandelli. Designato anche come unico revisore dei conti Paolo Bresciani, per il quale si è trattato di una conferma, dato che rivestiva già la carica nell'amministrazione precedente. A seguire la conferenza stampa di presentazione erano presenti tutti i componenti, il vice sindaco Stefano Bresciani e il presidente uscente Stefano Tamburini. Numerosi curriculum pervenuti che sono stati valutati in modo molto approfondito, mettendo al centro la competenza, l'esperienza multidisciplinare, la conoscenza dei meccanismi amministrativi, con l'obiettivo di avere un gruppo di lavoro coeso e operativo. Sentiamo ora l'intervista raccolta a caldo subito dopo la conferenza stampa. Tamburini, cosa lascia con questa presidenza? Lascio una società sicuramente in salute, una società che in questo periodo è considerata un po' quello che si dice sempre delle società pubbliche o partecipate pubbliche, che sono sempre o quasi sempre in perdita, invece è una società che è in salute, è molto sana, fa molti utili e che di conseguenza dà anche lustro e orgoglio a tutta la cittadinanza arcense. La mia esperienza di presidente negli ultimi cinque anni e di vicepresidente nei cinque anni prima è stata un'esperienza sicuramente molto positiva, sono riuscito ad ottenere alcuni risultati anche estremamente interessanti. Il presidente è Veronese Renato, il vicepresidente è Ciccarini Federico, poi Mandelli Stefano come consigliere, Lunelli Bruno e Angelini Claudia. Lei come pensa di poter contribuire a questo sviluppo del territorio? Allora dicevo prima durante la conferenza stampa che AMSA nasce come azienda di servizi municipalizzata per la gestione di alcuni servizi e dicevo che la sfida oggi è continuare nel solco diciamo di questa tradizione, nel senso fare quello che AMSA ha sempre fatto, storicamente ha fatto, però ricordarsi che c'è stato un passaggio importante all'inizio degli anni 2000 che ha visto AMSA trasformarsi in società di sviluppo. Allora questo significa in buona sostanza che tutto quello che AMSA ha fatto fino adesso lo dobbiamo continuare a fare, ma dobbiamo avere maggior consapevolezza, maggior attenzione verso quelle tematiche di sviluppo che la comunità tramite evidentemente il sindaco che è la proprietà di AMSA sottoporrà al Consiglio di Amministrazione. Io sto pensando all'area dell'Infano che è uno dei temi che ha creato grande dibattito nella politica e anche nei CDA di AMSA stessa, ma sto pensando anche a tutto quel patrimonio di proprietà della comunità, di proprietà dell'amministrazione comunale che se l'amministrazione comunale è interessata potrebbe essere valorizzato proprio da questa esperienza e dall'impegno di AMSA. Mentre proprio per quanto riguarda la questione dell'Infano, ha già dei programmi d'azione, un progetto in testa e anche per quanto riguarda la questione Casinò, amministrazione del Casinò? Allora beh, per quanto riguarda l'Infano, diciamo che di questo se ne è discusso molto negli anni, la politica se ne è occupata, nei tempi che furono si è redato un piano attuativo, per cui diciamo che dal punto di vista urbanistico la questione in parte è stata affrontata, però c'è anche da dire che l'abbiamo affrontata molti anni fa, probabilmente oggi c'è bisogno di introdurre qualche elemento di cambiamento, di innovazione. AMSA ha predisposto a tutta una serie di progetti, la partita non è facile per la questione delle risorse e perché su una questione come quella dell'Infano che è molto complessa, molto articolata, c'è la necessità insomma di guardarsi attorno e di coinvolgere anche la parte privata della nostra comunità o comunque anche un privato, un partner industriale che possa insieme ad AMSA collaborare a questa valorizzazione dell'area dell'Infano. Per quanto riguarda il Casinò, questa è una partita anch'essa complessa, so di questa intenzione, di questa decisione dell'amministrazione comunale di destinare parte degli spazi del Casinò alla scuola musicale e attendiamo l'ingresso della scuola musicale per poi insieme al Consiglio di Amministrazione vedere cosa si può ulteriormente fare per quanto riguarda l'utilizzo e lo sviluppo anche del Casinò.